Il 18 giugno torna il PA Social Day, l'evento nazionale dedicato alla nuova comunicazione pubblica, organizzato dai comunicatori di PA Social in contemporanea in tutte le regioni di Italia. Nell'appuntamento di Reggio Calabria il tema che verrà trattato sarà quello di presentare gli strumenti per la partecipazione e l'innovazione volti alla valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. Ti aspettiamo presso lo spazio Open di Via Filippini a Reggio Calabria a partire dalle ore 9.30. Non mancate!